Abbiamo una domanda molto interessante dai commenti, io li leggo, non sapete che faccio questa brutta cosa di leggere i commenti YouTube, e c'è Ayake Ayo che ci chiede, sto facendo sto mastering, sto controllando altri brani famosi, ottima mossa innanzitutto, controllate quello che nel vostro genere musicale fanno gli altri e tutto, e è successo questo, ho trovato molte tracce con più uno, quasi più due di True Peak, a primo impatto sono rimasto basito, perché il concetto va a tutto ciò che conoscevo sul mastering e il True Peak, un video a riguardo potrebbe essere interessante, ne abbiamo già parlato in passato quando abbiamo visto il mastering dei brani di Sanremo, dove al punto alcuni, non tutti diciamo, ce ne erano una decina, andavano col True Peak in positiva, quindi passo uno, che cos'è il True Peak? Il True Peak è un fenomeno nell'audio digitale in cui l'audio ricostruito dalla vostra scheda audio supera lo zero, anche se digitalmente, se ci pensate è impossibile, voi avete dei valori digitali di audio, una volta che sei a zero, sei a zero, non puoi andare in positivo, non ci sono più bit, hai finito la memoria, l'integrato, non c'è più roba, ma per tutta una serie di questioni teoriche che non è assolutamente mia intenzione spiegare, perché non sono un docente, se volete studiare teoria dei segnali e andate all'università e studiate i segnali, non studiatela su YouTube, soprattutto su Riperiani. Però in poche parole, tu hai tutta una serie di punti che sono le tue misurazioni, ne hai 44100 al secondo e hai 24-16 bit di risoluzione verticale. Nel ricostruire il segnale unendo i punti, come si fa con i giochini, quelli dove unisci i punti e esce l'elefante, può essere che il segnale analogico ricostruito sia superiore allo zero. Questo era malissimo, ok, è sempre stato malissimo, perché si andava a fare mastering per CD, ok, quindi un supporto digitale in cui non c'era. Vedremo adesso perché è normalizzazione e quindi questo cosa comportava? Che se tu avevi un master che aveva problemi di true peak, poteva grattare su alcuni lettori CD. Attori CD che appunto non riuscivano a riprodurre o comunque clippavano, grattavano, perché il tuo segnale era teoricamente troppo. Perché tutto questo adesso non si fa più? Nessuno caga più sulla roba del true peak? Perché nel mondo moderno è molto poco probabile che il tuo segnale venga riprodotto al 100% del suo volume in tantissime situazioni, ok? E poi perché adesso tutte quante le schede audio, tutti quanti i driver, sia di Mac che di Windows, che di Android, che di iOS, sono a virgola mobile. Quindi, mettiamo caso, che cosa succede? Io ho il mio mastering sbagliato con il true peak, ok? Quindi ho fatto un mastering talmente alto e con i limiter meno adeguati che appunto va in positive. Mettiamo che carico questo file su, ad esempio, YouTube, ok? Quindi lo monto assieme a un video e lo carico su YouTube con problemi di true peak. YouTube però ha la normalizzazione dell'audio, significa che qualsiasi cosa tu carichi, se più alta di meno 14 lufs, che è una misurazione di quanto suona forte il tuo fa l'audio, verrà abbassato. Mediamente tutti i file audio che sentite delle canzoni vengono abbassati dai 4 e 6 dB, ok? Quindi questo file viene abbassato e non c'è più problema di true peak, ok? Cioè, il tuo zero diventa meno 6 e quindi digitalmente non clippa, analogicamente non clippa, il problema non si verifica. Ma ti dirò di più. Spotify, stessa cosa, di default c'è attivata la funzione a meno 11, meno 14, lì dipende un po' da come hai configurato il tuo Spotify. Anche in quel caso, se avevi problemi di true peak al massimo del volume, questo non si verificherà perché verrà abbassato. Ma metti caso che, porca puttana, sei di sfiga nella versione web di Spotify che non ha la normalizzazione, per avere problemi di true peak devono verificarsi due cose. Devi avere il volume di Spotify al 100% se già scendi semplicemente di un paio di tacche. Non è più questo problema, perché vi ricordo, è tutto virgola mobile, non esiste più il clip, esistono numeri positivi in virgola mobile, non ci sono problemi. Quindi, se già abbassi, true peak non è un problema. Se hai l'audio di Windows, più basso, praticamente, dal 100%, hai già risolto. Perché? Perché è virgola mobile, quindi non stai abbassando un segnale clippato, ma stai abbassando il segnale non gratta. Non c'è problema. Ma vi dirò ancora di più. Se hai una scheda audio un pochino moderna, una scheda, adesso sulle schede madri montano delle cannonate pazzesche, tipo l'uscita integrata della mia scheda madre pro art, c'è una DAC fighissima, su quad DAC, i nuovi MacBook hanno dentro addirittura l'amplificatore cuffia da tempo in penese. Insomma, ci stanno pensando sta roba. Queste schede audio lavorano a virgola mobile. Ok, perché? Perché la selezione del sample rate è finta, non è vera. Cosa significa? Cosa succede? Ok, allora, voi sapete che sulla vostra scheda audio potete scegliere diversi sample rate, 4400, 48, 96, 192. Ora, dipende dalla scheda audio, quindi non sto parlando in generale, ma di solito le schede audio più Wi-Fi, le DAC per le cuffie, le schede audio professionali da studio non fanno la cosa che descriverò tra poco, ok? Quella più una roba consumer, che però è la gente che ascolta le due canzoni. In queste schede audio, se tu dici, ok, lavora a 44.100, la scheda lavora effettivamente a 44.100. Dovrà applicare un filtro, ok, anti-aliasing per non avere problemi, ok, che sposterà o ha diversi filtri a seconda del sample rate a cui lavori. Tutto questo è un po' costoso, ok? Perché devi fare tanti filtri, filtri se vuoi fare bene costano, bla 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 bla. Enter the new digital era of microconduttori. Cosa fanno molte schede audio commerciali? Si piantano a una frequenza di campionamento superiore, ad esempio lavorano sempre a 88, a 96 kHz, ok, di nascosto all'utente e ti dicono scegli il sample rate 44.100, 48, ok? Loro ti danno quelle due scelte, ma in realtà loro lavorano più in alto. Questo perché è molto meno costoso fare un filtro digitale anti-aliasing. Quindi il tuo audio che è a 44.100 verrà over-samplato, ok? A volte in modo anche brutale, ci sono algoritmi molto fighi. Viene fatto un over-sampling a 88.000 o 96 e poi verrà filtrato e suonato a 44.100. Questo perché ti permette di non dover avere dei live switching. Voi nelle schede audio professionali questi switch di filtri li sentite anche a orecchio, ma non nell'audio. Proprio la scheda fa proprio clic, c'è dentro il relè che cambia i filtri. Si sente ad esempio sulla topping, quando cambia il sample rate al suo interno senti clic che cambia i filtri. Le schede audio dei portatili, dei telefonini, ok? Questa cosa non esiste. Tutto viene ricampionato alla sample rate. Ad esempio, non mi ricordo mai se Android è 44 o 148, però tutto l'audio viene ricampionato in tempo reale al sample rate di sistema. Non è che il tuo telefonino switcha tra 44 e 48 a seconda del file che gli dai. Tutto questo casino per dire cosa? Che tutti questi calcoli vengono fatti in virgola mobile. Quindi virgola mobile, ricordatevi, è modo di rappresentare tramite esponente un numero, ok? Che quindi può essere anche positivo, ok? Cioè puoi andare sopra lo zero, puoi diventare positivo. Mentre se lavori a 16 bit o 24 bit, lì non puoi andare sopra lo zero, sono valori solo negativi, ok? Da meno infinito a z. Questo cosa significa? Che se hai un file con problemi di true peak, tanto sei già in virgola mobile e quindi in virgola mobile non si presenterà il problema. Il tuo file da 44 a 116 bit con problemi di true peak verrà trasformato in un 48 o rimane 44, ma virgola mobile, ok? È la stessa cosa che succede nel core audio del Mac. Core audio del Mac non è bit perfect perché viene ricampionato in virgola mobile. Una volta che sei in virgola mobile non hai più questo problema, quindi l'unico caso in cui tu potresti sentire delle distorsioni è se hai anche l'audio del volume al 100% e la tua scheda audio è stata costruita così di merda da avere lo zero analogico sullo zero digitale, non succede mai. Di solito lo zero analogico, cioè dove gratta la scheda audio è un po' più in alto in modo da non avere questi problemi. Infatti non so se ti sei mai reso conto, ma se fai suonare tipo due file contemporaneamente su Windows, ok? Due file 0dbfs contemporaneamente e abbassi il volume del computer, non gratta. Eppure dovresti essere sopra lo zero. Non lo sai perché sei in virgola mobile, ok? Quindi il true peak nel 2024 non esiste. Quindi, ecco, dormite sonni sereni se il vostro file ha problemi di true peak. Io personalmente continuo a sconsigliarlo, ok? Perché non si può mai sapere che, cioè che ne so, voi avete il vostro wave che ha problemi di true peak, lo caricate su Spotify, la conversione da wave a AC o il formato che loro usano sui server è in virgola mobile, quindi anche lì non è un problema. Anzi, peggio ancora, è in frame, che è ancora un'altra roba che non sto qua a spiegarti. Sono praticamente tante foto del... è come se fotografassero la tua canzone nello spettro. È come se prendessero un analizzatore di spettro e facessero tante un video all'analizzatore di spettro della tua canzone, lo salvano così. Questa è la codifica, le nuove codifiche lavorano in questo modo, con tutta una serie di algoritmi dentro incasinati. Ecco, se hai problemi di true peak e di sfiga non capita praticamente più, per questo vi dico che la probabilità è molto bassa. Vai su un sito che ha la conversione magari vecchia, magari fatta col culo, che non è in virgola mobile, potresti avere problemi di gratto, ossia che ti ritrovi un file dopo che, anche se in mp3 AC quello che è, gratterà perché è stato clippato durante la fase di conversione. Ma ha provato in mille modi a far grattare Spotify, non ce l'ha mai fatta perché è virgola mobile. A dimostrazione di questo ci sono tutti quegli esperimenti al brano con più lufs al mondo che viene caricato sulle piattaforme e non gratta. Non è distorto per assurdo, perché basta che abbassi il gain, lo ascolti a basso volume e non distorci. Questa è la potenza di vivere nel 2024, il fatto che te ne puoi un po' fottere perché appunto la percentuale di casi in cui il True Peak è un problema è talmente bassa ormai. Una volta era alta, una volta stampi il CD, il CD non è che è virgola mobile, il CD è il CD e poi tante volte c'era il CD che andava direttamente nella DAC e usciva, quindi True Peak era un problema. Ma soprattutto le fabbriche ti tiravano indietro il disco. Per questo c'è stato un periodo storico molto lungo in cui il True Peak era importante perché se facevi il master di un CD, quindi avevi il tuo Plextor, stampavi il tuo disco, fatto post, il Redbook, mettevi tutte le robe giuste, lo mandavi in fabbrica per fare il 1000, 10.000, 100.000 copie e loro ti rispondevano con un bel 2 di picche dicendoti sei una bestia, noi non stampiamo sta merda. Problemi del passato o problemi del presente se stampi ancora su CD. Però ultimamente non sono più così schizzinosi, stampano qualsiasi roba arriva se ne fottono. Però quindi è un problema solo se stampi su CD praticamente. O se hai un utente super stronzo che ha una DAC un po' vintage che la usa al 100% perché preferisce ridurre il volume con un attenuatore passivo, tutte ste robe, allora potrebbe sentire il True Peak. No, no. Per l'uso che diciamo dell'utente medio non sentirà nessuno. Quel problema lì. Per questo che se ne fottono. Non perché sono stronzi, perché preferiscono avere il segnale un filo più alto e fottersene di chi è così purista. Ok. Ci lascia la strada vecchia per la nuova... si perde in autostrada.